Voi dovete pensare che le nostre civiltà nascono in Mesopotamia allorché qualcuno ha deciso di seminare il monococco, che qua in biblioteca c'è. Quando ha deciso di seminare, ha seminato, quindi ha pensato, ha aspettato e ha raccolto. Quando ha raccolto ha dovuto proteggere il raccolto. Per proteggere quel raccolto ha fatto la prima cinta muraria. La città nasce così. Si è smesso di essere nomadi stanziali nel momento in cui c'era la possibilità di vivere tutto l'anno. Il grano, grazie alla sua conservabilità, una volta raccolto, garantiva di essere stanziali. Là nasce la nostra civiltà. Quindi il grano è, se vogliamo, il punto di partenza dell'umanità. Quindi che sia grano antico, che sia grano moderno, ha in sé innanzitutto questa cosa qua. Che è un legame con 13.000 anni di storia, più o meno. Questa dimora, questo atto della semina, è per noi un momento soprattutto della conoscenza. Cioè del vedere come determinate piante si adattano a questo contesto. Proviamo a metterle anche insieme, a fare i cosiddetti miscuglie o le popolazioni evolutive. Dove mettiamo insieme le diverse varietà. È un lavoro che lo facciamo per avere delle popolazioni che si adattano, per esempio, ai cambiamenti climatici. Una varietà che subisce di più la siccita, produrrà di meno a vantaggio di un'altra che non la subirà. Quindi quando andrai a raccogliere la granella, avrai raccolto un seme che è già adatto a condizioni di siccita. Ecco, in un'era dove abbiamo la necessità di sviluppare un'ecologia dentro e di farcela nascere come un momento proprio dell'umanità. E noi possiamo svolgere un grande ruolo per questa possibilità ecologica. Coltivare questo grano significa questo. Significa poterlo coltivare avendo il proprio seme e quindi avendo a disposizione il seme, avendo la capacità di interpretare i cambiamenti climatici, non usando chimica. È una forma di emancipazione potente. Grazie. Grazie.